L'industria turistica afferma il suo ruolo di importante motore dell'economia della Puglia, continuando a crescere anche nel 2018. La Fiera del Levante di Bari ha rappresentato la giusta occasione per fare il punto della situazione su quanto già realizzato all'interno della strategia condivisa con l'intera comunità pugliese, regione comuni e operatori, le cui linee guida sono fissate nel piano strategico del turismo della Puglia. Un'analisi della destinazione Puglia tra passato, presente e futuro, guardando alle azioni a disposizione per raggiungere i nuovi obiettivi, dall'allungamento della stagione alla qualità dell'accoglienza. È importante essere vicini agli enti locali che non hanno le risorse per investire da soli con una serie di strumenti che li aiutano proprio ad attrarre turisti tutto l'anno. Quindi in Puglia 365 è un piano che si declina attraverso una serie di incentivi, attraverso un bando che è finalizzato a costruire itinerari sul territorio in maniera tale che ogni weekend possa essere promosso anche all'estero per attrarre turisti da noi. E poi un bando infrastrutture che serve per riammagliare le città turistiche in maniera tale da evitare che ci siano delle recensioni negative perché la piazza è disconnessa, perché il porto non si collega alla città o perché i contenitori culturali non dialogano tra loro. Sarà merito di chi presenta i progetti proprio attivarsi in questo senso. Le risorse noi in campo le abbiamo messe. E poi ancora un bando ospitalità attraverso il quale puntiamo ad invitare opinion leader, per giornalisti a conoscere la Puglia perché se la conosci te ne innamori.